Un Natale in Asterity Sono andata in giro per negozi e ho visto un po' di tute del Napoli per i ragazzi, maglioncini, sciarpe, cappelli, diciamo sono le cose che più vengono utilizzate Un Natale in Asterity, come ti sei orientata nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare questo Natale? Allora, per le amiche, accessori, bracciali, collane, poi sciarpe, cappelli, sono semplici Un Natale in Asterity, come ti sei orientata nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare per questo Natale? Più che altro accessori, oggetti, libri, sciarpe, abbigliamento, quindi giusto ai migliori amici, i parenti più stretti magari Giusto passare comunque un Natale vero, sincero, quindi un Natale con le persone a cui si tiene di più Un Natale in Asterity, come ti sei orientata nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare per questo Natale? Giusto un pensiero per i parenti più stretti, un regalo ai miei migliori amici, dei libri, le sciarpe, alle mie migliori amiche il trucco, giusto un pensiero Un Natale in Asterity, come ti sei orientata nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare per questo Natale? Ci sono degli amici che lavorano in un'associazione sul mare, fanno dei calendari molto belli, a un prezzo basso Come diceva giustamente lei nella domanda, è un periodo di austerity e quindi bisogna tenerne conto a tutti i livelli Un Natale in Asterity, come ti sei orientato nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare per questo Natale? Sono ancora all'ultimo momento, sto ancora cercando qualcosa, però vediamo, vediamo che cosa fare Adesso sono in giro per cercare un regalo di Gucci per la mia fidanzata, vediamo un po' che cosa troviamo Un Natale in Asterity, come ti sei orientata nella folta giungla dei regali? Cosa hai deciso di regalare per questo Natale? Beh, per lo più felpe, poi più che altro per la mamma è la parte più difficile, comunque penso cose per la casa, cose del genere Mio padre, libri, cd, è la parte dove più si può essere sicuri di andare bene